Okinawa a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Clash of Clans, signori! E quest'oggi siamo qui con un video recapino delle CWL, ma prima di iniziare voglio ricordarvi che qui sotto in descrizione c'è il link della mia Amazon Wishlist Se potete passarci a darci un'occhiata e magari farmi un regalino e ne sono molto molto onorato Inoltre c'è il bellissimo sito di coffee dove potete fare adozione singola o a cadenza mensile, scegliete voi il pezzo, scegliete voi tutto direi che è molto molto onestro Soprattutto condividete il video con i vostri amici perché più siamo e meglio è importantissimo Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che vado a pubblicare regolarmente dal martedì al sabato 14.30 puntuali sul canale Mi raccomando, mi raccomando signori, ma veniamo a noi quest'oggi Come vedete negli accampamenti ci sono un po' di super goblin ma non vi spoilerò nulla Trovate il video sul canale per scoprire come li abbiamo utilizzati Ma quest'oggi non ci riguarda quello Tra l'altro guardate signori quanto è bello il nuovo villaggino Quanto è figo il nuovo villaggino anime Qui con i due goblin che fanno la super mega fusion Regà bellissimi, bellissimi Eccola, sta a parte subito Bello così Poi ce n'è un altro qui che si trasforma in super saiyan Signori, fa una puzzettina Fighissimo, bello, bello, bello C'è un sacco di reference questo villaggino Ma andiamo subitissimo a vedere insieme le CVL Giornata 2, 3 e 4 che è ancora in corso Ma tra pochissimo sta per finire Nella giornata numero 2 Diciamo che è andata un pochettino meglio Per quanto riguarda gli attacchini Non è stato troppo sfigato Come nella giornata numero 1 Signori, infatti abbiamo anche vinto per due stelline in più Quindi, bene, per i guti, tra l'altro c'era anche un altro attacco Che un ragazzotto non ha fatto E poteva fare anche più stelle Però vabbè, andiamo a vedere subitissimo Il mio attacchino classico, attacchino di terra Regà, ovviamente avevamo un TH Cioè, due TH sotto al nostro Quindi era relativamente molto semplice Però, però comunque aveva un villaggino abbastanza stronzettino Un pochettino largo Io ovviamente sono partito sull'angolo come sempre Regà, un po' a pulizia di tutto quanto Adesso mettiamo rallentato Visto che abbiamo piazzato tutte le altre truppe E poi sono andato di cattiveria centrale Dritto per dritto Di prepotenza Sul TH con tutte le mie bellissime truppettine Pozioni e quant'altro Abilità del sorvegliante E ci siamo portati a casa Tutto, tutto il TH Bello, bello, guardate La distruzione più totale Ma, signori È successo poi Che quasi tutte le nostre truppettine Come state vedendo qui a schermo Sono praticamente morte Ma malamente Dalla veleno Regà, è un bel problema Io odio le veleno Ultimamente tutti le utilizzano All'interno dei villaggi Sono veramente fastidiose Però, fortunatamente avevamo Gli eroi maxati con la pozzoncina Avevamo tutte quante Cioè, gli eroi tutti ancora full vita Fondamentalmente E la vita del re barbaro E della regina Che, regà Sono esagerati Quella del re barbaro Spacca qualsiasi cosa Quella della regina È molto molto onesta Perché gli dà Tre vite in più Neanche una tre Tre vite in più Gli dà Una per ogni curatore che spawna Direi molto onesta Ci siamo fatti Quest'attacchino Tra l'altro Con la fox sul re barbaro Io l'adoro Mi piace tantissimo Sul re barbaro Meno sulla campionessa Anche se molti di voi Mi hanno consigliato sulla campionessa Ho visto anche molti pro player Che la utilizzano Sulla campionessa Però, regà A me piace un po' meno Sulla campionessa Perché io la campionessa La utilizzo In prima linea Per andare a distruggere Subitissimo La eagle Quindi La fox Mi dà poca sicurezza Perché una volta morta la fox La campionessa È inerme Mentre Con la finice Che gli dà Una seconda vita Secondo me, regà È tanta tanta roba E il re barbaro Con la fox È esagerato Fortissimo Tra l'altro Con l'abilità Del baffo Del vampiro Che ci recupera Anche la vita Quando colpisce Regà Diventa OP Perché diventa invisibile Colpisce e recupera vita Ritorna normale Continua a colpire Mentre recupera vita E viene colpito Ritorna invisibile È farming E farming di vita Completa Bello, regà Bello, 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 bello Secondo me È un'ottima combinazione Andiamo a vedere L'attacchino Che ho fatto Con il secondo Account Un attacchino D'aria, regà Qua è andato Molto, molto onesto Devo dire Con i draghi elettrici Villaggino Molto largo Ma abbiamo fatto Una pulizia laterale Come al solito Io lo metto Un pochettino più veloce Così Regà, ovviamente Vediamo magari Più cosettini E vediamo anche Qualche attacchino Degli altri ragazzotti Del clan Questo diciamo Che è andato Abbastanza regolare Fondamentalmente Tutte le gruppe Sono entrate Belle, belle All'interno Sono andate Verso il TH Quindi In modo Molto, molto pulito Mentre qualche Draghettino Stava a fare Il giro fuori Esterno Insieme agli eroi Che devo dire Hanno fatto La pulizia Che ci serviva Perché, regà Se no Questo villaggio Era veramente Molto, molto, molto Largo Qui abbiamo rischiato Un pochettino Perché dico Cavolo Ci sono morti Quasi tutti i draghi Ci è rimasto Soltanto l'abilità Del re barbaro E della regina E soprattutto L'abilità Del re barbaro In questo Secondo account Non è quella Della pallarocciaio Perché non l'ha sbloccata E quindi È stato un po' più rischioso Però comunque Ci lo siamo portati a casa Tranquillamente Vediamo Subitissimo Anche il L'attacchino Con Chirito Che sono il 27 E ho attaccato Il 27 E ma ci ho detto Una sfiga Della madonna Signori Con il mio terzo account Purtroppo 97% Una stella Soltanto Era un villaggio Molto Molto largo Pensavo Di riuscire Meglio Io ho Startato L'attacco Da qui sotto A pulizia Proprio diretto Verso Il TH Andando Molto Di cattiveria Purtroppo Non siamo riusciti A fare Tantissimo Perché C'era rimasto In vita Non mi ricordo Se La torre inferno Forse O qualcosina Di simile Che purtroppo Non siamo riusciti A buttare giù Però Va bene Ci sta Anche questo Fa parte Del rischio Di attaccare Con i draghi elettrici Di attaccare I villaggi Così tanto grandi Soprattutto Fa parte Anche delle cvl Avevamo perso Praticamente Tutte le truppe C'erano rimasti Soltanto gli eroi La regina Con l'abilità Che non riusciva Mai Nella vita A pulire Tutto il restante Del villaggio E non avevamo Soprattutto Tempo Se non mi sbaglio Dovremmo essere riusciti A pulire Un bel po' Infatti Vediamo Velocemente Tutta la polizia Che ha fatto La nostra regina Che si è pulita Quasi tutto Qua è rimasta Incastrata E ha perso Tempo Con quello lì No Non era questa La torre inferno Ma era Quella lì sopra Purtroppo C'è finito il tempo Raga Queste tre strutture Non ci siamo riusciti A buttarle giù Quindi ci sta Il fail Sempre dietro l'angolo Ve lo dico sempre Ve lo ricordo sempre In tutti i miei video E questa è la prova Effettiva Che il fail È sempre dietro l'angolo Andiamo a vedere Un attacchino Di Dark Angel Che mi piace molto Come attacca Poi nelle prossime guerre Quindi nella giornata 3 E nella giornata 4 Andiamo a vedere Un pochettino gli altri Magari non vediamo I miei attacchi Perché sono sempre Gli stessi Tutto sommato Vi faccio vedere Giusto velocemente Quando ho fatto Qualche fail Quando ho fatto Attacchini belli Comunque Questo ragazzotto Mi piace molto Come attacca Perché va Di invisibilità All'interno Del villaggio Con i super aceri Raga È una tecnica Che si utilizza Molto Per me Tanto rischiosa Perché io Non lo so Raga Secondo me Mette l'ansia Sta cosa Però se state attenti C'è lui si è portato A casa Il municipio Più un buon 20% Ha buttato giù La regina avversaria Ha buttato Giù Una buona parte Di truppe Del clan avversario Devo dire Che Non è andata male Non è andata male Anzi È andata benissimo Poi si è buttato Con la queen In pulizia laterale Per distruggere Le ultime truppe Del clan rimanenti I super sgherri Che fanno Il male Più totale E poi con tutti Gli altri eroi Hanno cominciato A saltare L'attacchino Bello prepotente Che sono dei draghi Cavalcatraghi Cavalcatraghi Ragazzi So fortissimo Perché puntano sulle difese I draghi addietro Puliscono tutto Quello che resta Tanta roba Ovviamente Qualche mongolfiera Che va in avanti In una scoperta A distruggere Qualcosina Non è per niente male Invisibilità Visto che ce l'aveva Ancora una L'ha utilizzata Devo dire Molto molto ottimo Quella è del Del TH avversario La seconda invisibilità Ci sta ragazzi Guardate che bella pulizia Cioè Spaccano le difese E i draghetti Puliscono attorno Spaccano le difese E i draghetti Puliscono attorno Cioè Bellissimo Bellissimo E si è portato a casa Un bel 100% Voglio provare Prima o poi A utilizzare Queste truppettine Anch'io In un attacco Magari multiplayer Ovviamente non in cvl Perché Non sono confident Con quel tipo di attacco Andiamo a vedere L'attacchino Di Vittorius Nel Secondo Nella terza giornata Purtroppo gli è andata male 98% Anche lui La sfiga Perché sapete Il karma La sfiga È sempre dietro l'angolo È sempre cattivissimo Ha fatto il classico attacco Ovviamente Di draghi elettrici Che lui adora tantissimo Visto che li utilizza sempre E ha detto Un po' male Sono curioso Di vedere Quali sono le strutture Che gli sono rimaste In quale zona Per non aver fatto Il 100% Purtroppo La sfiga Vabbè Ci può stare Può succedere Come avete visto Anch'io Ho failato Sia nella prima giornata Che nella seconda Con il terzo accanto Quindi ci sta Specialmente in cvl Dove incontrate Avversari Forti Tra virgolette Dipende Ma alcune volte Anche più forti di voi Regà E di rischio Ci sta sempre È molto molto complicato Tra l'altro Si sono buttati A distruggere La campionessa avversaria E hanno preso Un fracco di danni Dal monolito Infatti sono esplosi tutti Regà Poi monolito Subito dopo Aveleno Gli ha fatto Veramente molto male E presumo Che il 2% Rimanente Probabilmente È questo deposito qui Secondo me Sì signori È quel deposito lì Cioè Veramente brutta Come cosa Perché quel deposito È rimasto lì Così Un dragchettino Ci sta Un sorvegliante Tra l'altro Se è soltanto quello Regà Si è pulito Comunque Belle cosettine Velocizziamo Perché il sorvegliante È veramente lento D'attaccare Si è pulito tutto Avendo l'ovulante Poi non veniva colpito Dal cannone Purtroppo Per quel Ah no Anche il cannone Non è esploso Per pochissimo Purtroppo Eh Vabbè Ci sta regà La sfiga È sempre dietro l'angolo L'ho detto 50 volte Basta ripete Sempre le stesse cose Io con questo qui Ho fatto Tre stelle Ovviamente L'attacco È sempre il solito Quello che faccio Quindi Diamo spazio Magari anche Ad altri ragazzotti Andiamo a vedere LP1 Che è anche questo È un ragazzotto Che attacca molto Molto figo Secondo me Utizza Buona quantità Di truppe Guardate quante Ne ha piazzate Madonna C'è un bordello Voglio vedere Come ha fatto Questo attacchino Tra l'altro Ha utilizzato Un Misto Di truppe No in realtà Trupperi Veramente poche Giusto Un po' Pugizia Magari Le utilizza E poi Ha attaccato Con i miner Signori Miner e Hog Rider Che è una bella Combinazione Sul canale Se scorrete Un pochettino Indietro Trovate anche Una combinazione Che ho utilizzato Io di Super miner E Hog Rider Che secondo me Regà È veramente OP Faceva veramente Molto molto male Se l'avete già provata Scrivetemi qui sotto Nei commenti Cosa ne pensate Se secondo voi È buona Comunque Torniamo All'attacchino Il ragazzotto Sta entrando Abbastanza Cattivello Anche con una Queen Walk Qui dietro Molto molto Oneso Io Arrivate a questo punto Sarei andato Nel panico Più totale Perché Signori Cioè Ha fatto Qualsiasi cosa Manca un bel po' Del billo In realtà E ci sono morte Tutte le truppe Tutte le truppe Perché i miner Non li vedo Ci stanno ancora i miner No I miner Sono esplosi Questo purtroppo È la pecca Dei miner Perché hanno Pochissima vita Però fortunatamente La queen Maxata E tutti gli altri Eroi maxed La queen è quasi maxata Tutti gli altri Eroi maxed Probabilmente maxata Per il suo TH Mi hanno permesso Di portare a casa Tutto quanto Il restante Quindi devo dire Molto molto onesto E pulito Signori Non c'è nulla da dire Attacco perfetto Eseguito molto 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 bene Scendiamo un pochettino Più nel basso Perché signori Andiamo a vedere Sempre gli attacchi Della persone Che stanno in alto Andiamo a vedere L'attacchino di Bob Vai Bob ha attaccato Il 24 Il suo corrispettivo Attaccandolo con Draghetti elettrici Draghetti Normali piccolini E due mongolfiere Ovviamente ha iniziato Con un primo attacco Regà Di Eroi Io ho già visto Questo attacco Molto molto bello E volevo farvelo vedere Perché secondo me Merita davvero Molto 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 Si è pulito Una buona parte Di villaggio Con gli Eroi Con la sputa tronchi Che tra l'altro Aveva dentro Anche le truppettine Del clan interessanti Che gli hanno dato Secondo me Una buona mano Perché Io adoro quelle truppe Tra pochissimo Scoprirete quali sono Perché sta per esplodere Esattamente Sono i Super Sgherri Sì esatto Infatti mi ricordavo bene Si è portato a casa Praticamente Un bel 34% Abbondante Soltanto Con gli Eroi Anche di più 40% Vediamo signori Fino a che Si è fermato Perché non mi ricordo Con esattezza 42 43 Forse 44 44% E poi ha piazzato I draghetti A poesia finale Dal lato del TH Quindi andava Proprio tranquillo Sulla seconda stella Sicura Senza un braio dubbio C'aveva ancora Sei gelo Ragazzi Sei gelo Ti puoi gestire L'attacco Come ti pare In tutta la tranquillità Del mondo Tra l'altro Botta di culo Qui per la Torre Inferno Che è cascata Con i fulminini Della morte Di un Di un drago elettrico Bello Con 5 gelo Sei gelo Sei Anche 5 Sei gelo Tra l'altro C'è stato anche La pozione di pipistrelli Se non sbaglio Con le pozioni di gelo Ragazzi Gestisci tranquillamente Te la piazzi Dove ti potrebbe dare più fastidio In questo caso In effetti Sul Scaglia pietre Ce l'avrei messo anch'io E anche sulla difeseria Perché stava squagliando I due traghettini Che aveva qui sotto Ma raga Fondamentalmente Direi che l'attacco Molto molto pulito Velocizziamolo un pochettino Così Diamo spazio Anche ad altri attacchini Devo dire L'ultima gelo Tra l'altro L'ha utilizzata Sulla Torre Inferno Ne poteva utilizzare Anche un altro Se l'ha rischiata C'aveva talmente Tanti traghetti Che la buttava giù Comunque Quindi Tre stelline Se le ha portate A casa Anche lui Signori Devo dire Che sono molto Molto contento Di questa cosa Andiamo a vedere anche L'attacchino Di Di chi vediamo L'attacchino Di Iron Alex No perché È attaccato molto In basso Per recuperare Più stelle possibili Questa tra l'altro L'abbiamo persa Purtroppo L'abbiamo persa Purtroppo Andiamo a vedere L'attacchino Di Cora Sono curioso Di vedere L'attacchino Di Cora Perché è tanto Che non la vediamo Purtroppo Ho fatto due stelline Anche Cora È andata male Ma questo è un villaggino Un posto Non so Bello diviso Villaggi così Allungati Regà Secondo me Con i draghi elettrici Sono tanto 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 Rischiosi Sono molto Molto rischiosi Ovviamente Vabbè Si è fatta una bella Pulizia iniziale Lì di lato Perché ci stavano Tante strutture Che qui Praticamente 50% Te lo porti via Solo con quelle Se la andiamo a vedere Tutta È un dragchettino Che l'ha piazzato qui Per buttare giù I depositi Non è da sottovalutare Come mossa Perché signori I depositi Vi portano via Tanto Tanto tempo È andata Bella Bella Prepotente Verso il centro Dell'attacco L'attacco Era impostato Perfettamente Voglio capire Dove gli ha detto male Purtroppo Questo inferno Gli ha detonato Un dragchettino È stato rischioso Il municipio Se l'è portato a casa Perché C'ha pure i super sgherri Che fanno Il danno più totale La queen Con l'abilità Dell'invisibilità Stavo pulitissimo Purtroppo Gli ha detto un po' male Perché Gli è morta La queen È morto Il re barbaro Purtroppo È rimasta Qualche strutturina Ma ci sta Ci può stare Andiamo a vedere L'ultima giornata Che è quella Che è ancora in corso La numero 4 Che tra l'altro Siamo Nel pareggino Più totale Quindi noi non possiamo fare Nient'altro Speriamo che Gli avversari In questi 10 minuti Non ci attacchino Così pareggiamo Invece di perdere Devo dire che È anche molto onesto Si andrà a vedere Poi magari chi vince In base alla percentuale Di distruzione Andiamo a vedere Allora Vediamo Un attacchino Di Bob Beast Che tra l'altro È sempre il nostro Amico Dark Angel Con un altro Suo account Quindi Ah no Tra l'altro Ha attaccato diversamente Da come attacca il sole Bello Ok Draghi normali Mongolfieri Un draghettino elettrico A pulizia A pulizia Due sgherri Ha utilizzato sempre La bellissima Super mega Mongolfiera Dirigibile Scusate Per andare dritto Verso Il centro Del villaggino Di prepotenza Presumo Con i super mega Arceli Sicuramente Si infatti Stanno qui sotto Vediamo Si Bellissimi Super arceroni Che fanno il danno Pesante Pesante Alle strutture Tra l'altro Gli ha detto anche male Perché c'era la pozione invisibilità Sul TH Signori Vabbè E' servita veramente poco Gli ha distratti per due secondi Ma poi sono tornati Comunque All'azione Si è portato via La stellina sicura Del TH Pulito Si sta pulendo anche Tra l'altro Questa bellissima Scaglia pietre Che Regà Fa male Non è riuscito a buttarla giù Però ci sta E' quasi morta Praticamente Poi Di Mongolfieri Draghettini Dietro a pulire Mongolfieri In una scoperta Ci stanno Muoiono Molto velocemente Però Fanno comunque Il loro danno Se arrivano Verso Qualche difesina E potrebbe dar fastidio Tipo In questo caso Le Eagle La stanno per detonare Male Cioè E' proprio esplosa Tra Draghi E il Mongolfiere Pulizia finale Di tutto quanto Il villaggino Le difese Un po' più importanti Forse è il monolito Che tra poco Perirà Mi auguro Sì ovviamente Perisce malamente E anche La Torre Inferno Qui singola Che tra l'altro Viene riparata Anche da qui Dal costruttore Regà Questa è stata Lissiosa Questa qua Se l'è rischiata Un pochettino Però c'aveva ancora Un Sette Otto Draghi Quindi Cioè Proprio Tranquillo Regali Non sono Draghi elettrici Draghi Normali Fanno tanto Tanto Tanno Anche se Devo dire Signori Attenzione Che rischio c'è stato Perché Qui la Queen E' servita Per portare a casa La vittoria Se no C'era la difficoltà Però Onesto Madonna Madonna Che brutta sfiga In quel momento lì E' riusciata a portare a casa Preciso Preciso Tutto quanto Tre stelline Belle belle Prepotenti Ci sta Very good Very good Andiamo a vedere Alex Chi ha attaccato Alex ha attaccato Il numero 12 Quindi ha recuperato Sempre in basso Ovviamente ha fatto Tre stelle Ci sta Vediamo L'attacchino Di Vitto No L'abbiamo già visto Vediamo L'attacchino Di 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 Geremy Geremy Ha fatto Tre stelle Al 6 Bello Geremy Gigi Dov'è l'attacchino Geremy Il nostro 12 Ha attaccato Il 6 Vediamo un pochettino Che villaggio Aveva l'avversario E come lo ha attaccato Questo penso che può essere L'ultimo Attacchino Che andiamo a vedere Speriamo che ovviamente Non perdiamo La CWL Ma la pareggiamo Almeno Così Una sola sconfitta Ci sta Ci sta Comunque siamo In classifica Siamo posizionati bene Poi vi faccio vedere Anche magari Un pochettino La classifica Attualmente Di come sta andando La CWL Comunque ha fatto Un attacchino Di Bowler Bello Interessevole E ha utilizzato Anche la caserma volante Ok O castello volante L'ho chiamato In tanti modi Io l'ho sempre chiamato Caserma volante Perché Credo che sia proprio Quello il nome Però non vorrei Sbagliarmi Non vorrei dire Cavolate Ha utilizzato tra l'altro Anche i druidi Le nuove truppe Che a me Non piacciono per nulla Cioè non riesco a utilizzarle Però ci sta Comunque si è portato a casa Le tre stelline Ovviamente Il risultato Lo sappiamo già A questo punto Del villo Purtroppo Diciamo che se la stava Rischiando molto Eh regà Perché Beh in realtà Andrà fine Sono rimaste giusto Oddio Due scaglia pietre Non so poche Non so poche Potrebbero dar fastidio Ma c'è ancora La Queen Eh sì La campionessa Non la Queen In vita Che gli ha buttato giù Un bel po' di difese La Queen La Queen Anche in vita Con il bellissimo Unicorno dietro C'è ancora L'abilità Da utilizzare Anche sul Re Barbaro Quindi regà C'era rimasto Veramente poco Con la freccia gelante Poi fa il panico La Queen Perché fa veramente male Re Barbaro E Queen Che si sono portati a casa La terza stellina Bella Bella Puglita Così Vediamo un pochettino Un attimo La classifica Tra l'altro Mancano sei minuti Io mi auguro Che vada tutto Per il meglio Andiamo a vedere Le informazioni Della guerra No Non è vero Le informazioni Della stagione Noi siamo al terzo posto Con 300 Stelline Sopra di noi Al secondo posto Con 309 Quindi può essere Ancora recuperato Il secondo posto Al primo posto 323 Che Non è detto Regà Potrebbe andargli male E magari a noi bene E possiamo anche Recuperarlo Perché comunque Ci stanno ancora Tre guerre Quindi Devo dire Molto molto onesto C'è posta Ancora da fare C'è molto Molto da vedere Molto molto da fare Ovviamente Signori Per questo video Giga enorme Giga lunghissimo Può essere tutto Io vi invito A lasciare un bel like Per questo recapino E soprattutto Di supporto Per tutti i miei video Un commentino Che ho scritto Cosa ne pensate Secondo voi Se sta andando bene Questa cvl Se vi piacciono Video così lunghi Dove magari vi faccio vedere Anche Molti attacchini Degli altri ragazzotti Piuttosto che Sempre i miei Io so Contento anche Di far vedere Anche loro Ovviamente Perché fanno parte Del clan E è bello Essere tutti quanti Partecipi Specialmente Nelle cvl Perché Raga Il gioco De squadra È tutto Nelle cvl Secondo me Ovviamente Scrivete Scrivete un commentino Con scritto Cosa ne pensate Condividete il video Con i vostri amici Importantissimo Perché Più siamo E meglio E soprattutto Iscrivetevi al canale A voi Non costa nulla A me fate un piacere Enorme Immenso Se attivate anche La campanellina Rimanete sempre aggiornati Su tutti i video Che vado a pubblicare Regolarmente Dal martedì A sabato Tutti i giorni 14 e 30 puntuali Sul canale Mi raccomando Se volete dare un'occhiata Anche a Instagram Dove ogni tanto faccio Qualche storiellina Di spam del video Che è appena uscito O di spoiler Di progetti futuri E mistici Del canale Dateci un'occhiata A me Fa comunque piacere In niente Qui da Cilis E da questo Recappino delle CWL È tutto Un salutone Bella rega